Se stai guardando questo video molto probabilmente ti sei imbattuto in un file da un'estensione molto particolare, bizzarra, P7M che però si somma ad un'altra estensione, ad esempio PDF o DOC, DOCX. Che cos'è? Di cosa si tratta? Il P7M è praticamente un documento firmato digitalmente, quindi ha valore legale. Cosa possiamo fare per aprirlo? Ci sono diversi software, adesso vi faccio vedere questo che è quello che ho preso io, Digital Sign Reader, questo è un file di testo, cioè un file di prova volevo dire, aperto a caso, vedete che funziona, riesco ad aprirlo. E per farlo esistono diversi software anche gratuiti. Io vi do l'elenco dell'agenzia delle entrate, così vi scegliete voi stessi quelli consigliati dal ministero. Eccoli qui. I produttori dei seguenti software rendono disponibili per i download i propri prodotti gratuitamente. Ci sono questi. Io ho scaricato Digital Sign Reader, che sarebbe questo qui. Se volete scegliere il mio è facilissimo, andate sul sito, scendete e qua trovate software firma digitale gratis. Clicchiamo e qua c'è scarica. Una volta fatto, semplicemente va aperto e ci chiede alcuni dati. Gli diamo, gli diamo le mail. Per email riceveremo il codice di attivazione. Quindi lo inseriamo e dopo sarà sbloccato. Ovviamente vi allegherò in descrizione il sito del governo, dove potete scegliere tutti i vari software per leggere quel file. Un saluto.